Proposta di un tavolo comune tra tutte le forze politiche di centro-sinistra presenti in città che hanno tra l'altro a livello parlamentare sostenuto il secondo governo dell'avvocato Giuseppe Conte. La richiesta arriva dal consigliere comunale della città di Agropoli, Mario Pesca. La presente richiesta, continua Pesca, quale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, nasce dall'esigenza di dare una guida forte alla nostra città, visto che fra poco, più di tre mesi, i cittadini di Agropoli saranno chiamati ad eleggere la nuova amministrazione comunale. Tutto ciò anche perché la nostra città appare politicamente spaccata in vari tronconi, dato che sono tante le persone che hanno già avanzato la loro candidatura a sindaco. Tale situazione sicuramente dividerà l'elettorato e porterà tra gli strascichi anche nell'azione della futura amministrazione comunale. Il tutto a danno dei cittadini, i quali chiedono alla politica, solo ed esclusivamente, un buon governo per la nostra città. Occorre quindi una politica unitaria, mostrandosi tutti compatti e protesi ad un'azione amministrativa forte e coesa per la salvaguardia e lo sviluppo di Agropoli. Mai come in questo momento storico particolare, chi amministra deve con forza porsi al fianco dei cittadini e delle famiglie agropolesi, che si trovano in grave difficoltà economica, il tutto accentuato anche dalla nota pandemia. L'azione amministrativa, inoltre, deve essere protesa a ridare fiducia alle attività economico-ricettive, promuovendo lo sviluppo turistico della nostra città, anche rendendo fruibili e proteggendo le nostre spiagge. In tal senso, provvedere alla seconda rimozione definitiva, come da interrogazioni più volte avanzate in Consiglio Comunale, degli accumuli delle alghe e posidonia dei nostri arenili. Vi è bisogno quindi di un'amministrazione forte per risolvere anche le altre problematiche, tra le quali la manutenzione delle strade e dei beni comunali. Salvaguardare e adottare interventi sul porto, tali da far sì che lo stesso diventi definitivamente un volano di sviluppo per l'intera città. Porre in essere interventi per la cura del verde, per la salvaguardia ambientale, tutto ciò anche perché la prossima amministrazione potrà accedere ai fondi europei del Recovery Fund, destinati ai comuni. Tali fondi sono sicuramente un potenziale mezzo per rimodernare la nostra città, di importanti infrastrutture, per lo sviluppo economico-turistico con fondamentali servizi e opportunità. Quindi, al momento in cui vi saranno i finanziamenti, la futura amministrazione posta alla guida della nostra città per i prossimi cinque anni, sia in grado, con adeguati e pronti progetti, ad intercettare tali aiuti economici. Quindi si chiede un incontro tra tutte le forze politiche presenti sul territorio comunale, tra le quali il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva, nonché le liste civiche che si riconoscono in tale progetto unitario, che a livello parlamentare hanno sostenuto il secondo governo Conte. Di conseguenza, intorno a tale voto di confronto, redigere un programma politico-amministrativo collegiale per i prossimi cinque anni, avendo come unico obiettivo lo sviluppo ed il benessere di Agropoli e di conseguenza dei suoi abitanti, nonché dallo stesso incontro-confronto e tutti uniti, individuare la migliore figura da candidare alla carica di primo cittadino per la imminente tornata elettorale. Si resta fiduciosi per un incontro immediato, conclude il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Mario Pesca.